Primo caso di vaiolo delle scimmie in Abruzzo, contagiato un quarantenne vibratiano, rientrato da un viaggio in Spagna, ora è ricoverato in malattie infettive, altri 20 morti per Covid, 7 decessi giornalieri. Il sindaco Masci non si candida alle politiche, nelle fila del partito di Berlusconi la città ha bisogno di una guida certa, intanto è scattata la guerra dei Decibel con i locali della Movida in centro. Al tempo partita la conta dei danni sopra luoghi a San Nicolò, dopo la tromba d'aria che ha scoperchiato un tetto, due famiglie costrette a lasciare la loro casa, il vice sindaco Cavallari ordina la pulizia straordinaria. Il Pescara punta su Andrea Ghion, barlume di speranza per il Teramo che spera di restare in serie eccilta, raccoglie infatti la sospensiva, ripescaggi bloccati fino al 2 agosto, il 5 ai calendari. Ben ritrovati a una nuova edizione del nostro Tg Abruzzo, come sempre a cura della redazione giornalistica di Vera TV. Voi in apertura lo avete sentito dai titoli, il primo caso di vaiolo delle scimmie in Abruzzo, si tratta di un quarantenne residente nella costa vibratiana che era rientrato da un viaggio in Spagna. Attualmente ha ricoverato a malattie infettive nell'ospedale Mazzini di Teramo. Primo caso di vaiolo delle scimmie in Abruzzo, si tratta di un quarantenne della provincia di Teramo di ritorno da un viaggio in Spagna. L'uomo è ricoverato attualmente nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Mazzini. Il risultato delle analisi arrivato ieri sera ha confermato il sospetto. Siamo sempre i primi, siamo stati i primi ad avere il primo paziente coronavirus in Abruzzo, siamo stati i primi anche per il primo caso di vaiolo delle scimmie a Teramo e li abbiamo gestiti noi. Come abbiamo gestito il primo coronavirus, adesso stiamo gestendo il primo caso di vaiolo delle scimmie. Dovuto alla bravura dei nostri medici, la dottoressa D'Alonso Antonella che guida le malattie infettive, lei ieri nel visitare il paziente ha visto che c'erano problemi che potevano essere riconnessi a questo tipo di malattia, sono stati fatti i prelievi, trasportati al centro regionale di riferimento che l'assessore Veria aveva individuato, che è il laboratorio di Pescara, il dottor Fazzi, e ieri sera abbiamo avuto la conferma di quello che la dottoressa aveva già diagnosticato osservando il paziente. Quindi c'è questo primo caso di vaiolo delle scimmie a Teramo, lo stiamo gestendo e ricoverato nel reparto di malattie infettive. Adesso inizieranno i trattamenti con antivirali, come diceva ieri sera, ho avuto un colloquio con la dottoressa perché sin dal primo momento siamo stati in stretto contatto per vedere come gestire la situazione, siamo stati in stretto contatto con l'assessore, con il presidente della regione, è ovvio. Essendo i primi dobbiamo anche essere un po' attenti nel modo di come andarlo a gestire, però ecco, le professionalità nel nostro ospedale ci sono. Come abbiamo gestito al meglio il paziente Covid, gestiremo al meglio anche il paziente che è stato contagiato da questa malattia. Le prossime ore saranno fondamentali? Da quello che mi diceva la dottoressa, è gestibile, ecco, bisogna stare attenti a complicanze, va seguito e gestito bene. Noi siamo fiduciosi nei nostri medici e questo ci conforta. Continuiamo sul tema sanità, le direzioni strategiche delle ASL di Avezzano, Sulmona, L'Aquila, Lanciano, Vastochiette e Teramo hanno firmato le delibere aziendali per avviare le procedure di assunzione di operatori sociosanitari risultati vincitori del concorso aggregato bandito nel 2020, effettuato poi tra novembre 2021 e febbraio 2022, la cui graduatoria è stata formulata lo scorso 30 giugno. Lo comunica l'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì. Ed ora parliamo di Covid perché ci sono purtroppo altri 20 morti in regione ma soltanto 7, soltanto per modo di dire quelli registrati nelle ultime 24 ore, superata quota 450 mila guariti da inizio pandemia e nuovi positivi sono invece 2.195. Ci fa il punto Sergio Cinquino. Ci sono altri 20 morti registrati oggi nel report regionale di pazienti che avevano il Covid dal momento del decesso, un dato purtroppo altissimo che si spiega anche con il computo di 13 decessi avvenuti nel periodo gennaio-luglio e segnalati solo ora dalle ASL, ma che dà comunque una dimensione della quantità di vittime che ancora sta ammietendo il virus in regione, ben 3.474 da inizio pandemia, moltissimi dei quali anziani e soggetti fragili. Gli altri 7 decessi di oggi sono di età compresa tra 68 e 89 anni, 3 in provincia di Teramo, 2 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Pescara. Inoltre sono 2.195 i casi positivi al Covid registrati oggi, superata inoltre in regione quota 450.000 guariti, 451.740 per la precisione, 1.763 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi di oggi in Abruzzo sono così 46.683 più 410 rispetto a ieri. Ci sono inoltre 283 pazienti più 4 nelle ultime 24 ore ricoverati in ospedale e in area medica, mentre cala il numero dei pazienti in terapia intensiva da 8 a 5, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti infine 1.881 tamponi molecolari e 8.111 test antigenici, con il tasso di positività in calo al 21,96%. Dei casi positivi di oggi 341 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 611 in provincia di Chieti, 538 in provincia di Pescara e 549 in provincia di Teramo. Ed ora parliamo di elezioni politiche, andiamo a Pescara perché il sindaco Masci resta al suo posto, non si candiderà alle prossime elezioni del 25 settembre. Resto a fare il sindaco, dice ai nostri microfoni. Nei giorni delle grandi manovre per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre, della fuga di ministri e personaggi da Forza Italia, resta al suo posto il sindaco di Pescara Carlo Masci, eletto nelle file del partito di Berlusconi che dice a chiare lettere che non si candiderà per un posto in Parlamento perché, dice Masci, Pescara ha bisogno di una guida certa in questo momento fondamentale per il futuro del paese e della città. Prossime elezioni, grandi manovre anche all'interno di Forza Italia, mentre per Fratelli d'Italia il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio ha già dichiarato che rimarrà al suo posto. Per quanto riguarda Forza Italia, il sindaco di Pescara Carlo Masci, che novità ci sono? Rimarrà al suo posto? Nessuna novità, certamente rimarrà al mio posto a lavorare per Pescara, ho preso un impegno per cinque anni con i cittadini di Pescara e lo assolverò appieno per tutto il mandato che avrò a disposizione, quindi c'è molto da lavorare. Abbiamo avuto anni difficili con la pandemia, con la guerra, però Pescara è una città sempre effervescente, dinamica, ha una grande forza di reazione, lo sta dimostrando con una città piena di gente, molto attraente, è stata la città più attrattiva d'Italia nel 2021, mi sembra che ci sia molto movimento rispetto a qualsiasi altro dato precedente. Elezioni che, sindaco, si presentano comunque in ogni caso delicate, anche per la riduzione del numero di parlamentari, questo in ogni caso comporterà anche delle scelte dolorose all'interno dei partiti. Sì, questa riduzione comporterà scelte chiare, scelte di persone che sono radicate sul territorio, persone che sono riconosciute, persone che hanno voglia di lavorare per il bene dei cittadini, queste elezioni sono molto importanti, è un passaggio molto delicato per le condizioni in cui si trova l'Italia, in mezzo a in mani difficoltà, con il costo dell'energia che è scoppiato, con i prezzi aumentati, con tante situazioni che devono essere assestate, quindi dobbiamo scegliere veramente i migliori. Sulla fuga da Forza Italia da parte dei ministri, cosa dice Maci? Io non dico nulla, nel senso che poi ognuno deve farsi il proprio esame di coscienza rispetto ai rapporti che ha avuto all'interno dei partiti, all'interno delle coalizioni, al ruolo che ognuno ha occupato, anche il modo in cui si è arrivati ad occupare quel ruolo. Credo che nessuno possa dare giudizi trancianti, certo è che vedere persone che vanno via dispiace, ma le idee liberali, le idee di legame con il territorio rimangono e quelle sono le realtà che contano di più. Restiamo a Pescara dove la guerra dei decibel spacca la città, sentiamo. Guerra dei decibel nel centro di Pescara è città spaccata, esercenti pronti a scendere in piazza se il comune darà il via al piano di rizionamento acustico per mettere il silenziatore alla città e ridurre i rumori notturni chiesto dai residenti della zona di Piazza Muzzi. Non ci stanno gli esercenti che contestano al piano di essere stato realizzato su una situazione vecchia risalente allo scorso anno, prima che il covid e la crisi decimassero ulteriormente le attività e adesso ci sarebbe una situazione molto più soft e ridurre ulteriormente le attività creerebbe un danno irrimediabile a chi è investito sul proprio lavoro. Sì, è un piano, quello presentato in Consiglio Comunale, che ci crea molti dubbi sia per come è stato fatto sia per quello che descrive, perché è un piano innanzitutto fatto da un solo professionista e non un pool di professionisti che fanno una lettura più ampia e specifica del problema. È un piano che entra nel merito anche di alcune scelte politiche che sinceramente non si è mai vista un'azione di questo genere, ma poi fondamentalmente è un piano che è in forte ritardo rispetto a quello che accadeva qualche anno fa perché le aziende hanno sia ridotto il personale perché non fatturano come prima e di conseguenza ci sono le riduzioni importanti di decibel su quella zona perché c'è molta meno popolazione. Ma è un piano che porta alcune parti che creano alcuni dubbi, come quella di determinare una nuova professionalità che non è scritta neanche nell'Atlanta delle professioni, cioè quella che il cameriere deve andare in giro a chiedere di abbassare il tono della voce anche a chi cammina per strada, che non si è mai visto e che non è neanche il ruolo di un cameriere. Perché in quel piano si dice, è la prima volta che lo vediamo in tutta Italia, che al rosso di alcuni semafori bisogna far abbassare la voce alla gente che sta in quella zona. Oggi si tratta di lavoro e siamo in una città turistica così, a volte uno può anche sforare, però non è che uno lo fa intenzionalmente, lo fa anche in questi locali per creare un po' l'ambiente, queste cose qui. Poi ci sono delle persone che aumentano i decibeli, questa roba qui, bisogna che ci siano dei controlli, ma più che altro un consiglio, non una repressione. Questo è il discorso che facciamo noi. Il rumore va controllato, però adesso il 3 di agosto potrebbero esserci decisioni drastiche. Voi esercenti cosa dite? Beh, decisioni drastiche sono sempre, non vanno bene mai. Ci sono degli accordi che bisogna fare con, ci sono delle associazioni di categoria che bisognerebbe discutere per vedere di mettersi d'accordo su determinati cose, perché è lavoro, non è che la gente che sta lì sta a fare cose, è lavoro, questo è il problema. Noi come Ascom vorremmo fare una proposta al Comune. Siccome ieri c'è stata la votazione in Consiglio Comunale, i consiglieri di Forza Italia e Fratelli d'Italia non hanno partecipato, per cui la votazione è stata rimandata a mercoledì prossimo, perché non si è raggiunto il numero legale. Allora, noi facciamo un invito e anche una proposta. Vorremmo che, siccome i rilievi dell'atta sono stati fatti nel agosto dell'anno scorso, chiaramente la situazione è molto cambiata nella zona di Piazza Mozzi. Se lei va a verificare, ci sono dei locali che sono attualmente a fine luglio chiusi. Torniamo a parlare del maltempo di ieri che ha causato ingenti danni in provincia di Teramo dopo l'intervento dei vigili del fuoco e il sopralluogo da parte dell'amministrazione comunale, in particolare a San Nicolò. Oggi la situazione va verso la normalità. Ieri la provincia di Teramo è stata interessata da fenomeni atmosferici straordinari, in particolare a San Nicolò Tordino, dove una forte grandinata e una tromba d'aria hanno provocato ingenti danni. Subito i vigili del fuoco si sono adoperati per risolvere i problemi causati dal maltempo, come il tetto di una casa scoperchiato in via Miguel Angelo. L'amministrazione comunale, in relazione alla situazione rilevata dopo un sopralluogo sull'intera frazione, effettuata dal sindaco e dal vicesindaco, ha coordinato le attività di competenza e ha disposto che la Teramo Ambiente oggi effettua un'operazione straordinaria di pulizia sull'intero territorio di San Nicolò. È stata una situazione, un evento calamitoso eccezionale, di cui probabilmente ci dovremmo anche abituare, viste le temperature alte che ci sono in questa estate, che ha provocato dei danni alla frazione di San Nicolò. Si è concentrato un po' sulla zona di San Nicolò, ha prodotto sicuramente notevoli danni anche alle strutture, perché un tetto è praticamente quasi esploso, provocando poi l'inagibilità a due appartamenti, quindi a delle famiglie che sono state temporaneamente allontanate. Probabilmente il danno può essere quello più importante, può essere quello lì, come la rottura di molti veri di autovetture che in qualche modo sono state interessate da questa grandinata così copiosa e forte, con un'intensità incredibile che praticamente ha provocato danni, come abbiamo detto, a queste macchine. Il resto è rientrato tutto nel giro di qualche ora, nulla di particolare, un'acquazione alluvionale come capita spesso d'estate, ma voglio dire fa parte un po' della normalità, del cambiamento climatico che si è in corso. Per queste famiglie che sono state allontanate da casa, adesso quando rientrerà questa situazione? Allora, con l'amministratrice del condominio, ieri abbiamo avuto un incontro, io il sindaco e l'amministratrice, l'amministratrice ha immediatamente provveduto ad incaricare una ditta per fare i primi lavori di messa in sicurezza e successivamente per ripristinare il manto di copertura. Probabilmente con i primi lavori che saranno eseguiti le persone potranno rientrate tranquillamente a casa, perché danni alle strutture non ce ne sono, ma solamente alla copertura, quindi è semplicemente da ripristinare la copertura, sarà un intervento importante, per fortuna il condominio è provvisto di un'assicurazione dagli agenti atmosferici, quindi dovrebbe essere una cosa abbastanza tranquilla. C'è stata anche un'altra problematica per quanto riguarda l'acqua del ruzzo alla gammarana, è rientrata la situazione? Questa mattina so che la società acquedottistica avrebbe provveduto a fare tutti i lavori, perché c'è stato uno smottamento franoso a ridosso delle captazioni del ruzzo, che ha prodotto questa alterazione della qualità dell'acqua. Oggi sia l'Arta che la ASD provvederanno a rifare i campionamenti, in relazione ai risultati dei campionamenti poi il sindaco potrà mantenere l'ordinanza o rimuoverla, perché il tutto è rientrato nei parametri previsti dalla legge. Ora l'operazione della Guardia di Finanza di Pescara con il piano d'azione Play the Game contro la pirateria audiovisiva e il lavoro nero tra le denunce delle fiamme gialle. La Guardia di Finanza di Pescara porta avanti il piano d'azione Play the Game per il controllo economico del territorio contro i fenomeni illeciti tipici della stagione estiva. Scoperto a Pescara, un locale della Movida non in regola per pirateria audiovisiva e il lavoro sommerso tra i denunciati dagli uomini delle fiamme gialle per violazione della legge sulla protezione del diritto d'autore, che prevede un rischio di reclusione da sei mesi a tre anni e di una multa che arriva a superare i 15.000 euro. Sono i primi risultati dei controlli avviati già nello scorso fine settimana dai finanzieri del comando provinciale di Pescara nell'ambito del piano d'azione Play the Game. In uno stabilimento baleare sono state rilevate diverse irregolarità. A fronte di circa 500 persone presenti alla serata erano stati ufficialmente venduti poco più di un centinaio di tagliandi d'ingresso, individuati anche un lavoratore in nero e altre posizioni al vaglio degli investigatori, sequestrati anche svariati dispositivi elettronici con decine di gigabyte di file musicali abusivamente duplicati e privi di autorizzazione per la riproduzione. È un piano d'azione che rappresenta un po' la sintesi di diverse attività svolte in questi ultimi mesi e ha anche un carattere trasversale che va a focalizzare l'attenzione su quei fenomeni leciti tipici del periodo estivo. Quindi l'attenzione è stata concentrata anche sui locali della Movida e sugli stabilimenti balneari. Proprio in quest'ultimo fine settimana abbiamo scoperto che in un locale della Movida erano presenti 500 giovani avventori ma soltanto 100 di essi avevano un regolare biglietto d'ingresso. Quindi abbiamo scoperto una importante evasione fiscale. Ma non solo, nello stesso locale abbiamo scoperto diverse posizioni di lavoro sommerso, una sicuramente di lavoratore in nero e in più abbiamo sequestrato diversi gigabyte di file musicali illecitamente riprodotti. Per cui abbiamo denunciato tre soggetti alla Procura della Repubblica di Pescara per la violazione della legge sul diritto d'autore che prevede condanne da sei mesi a tre anni e multe fino a 15 mila euro. Continueremo nelle prossime settimane a garantire un presidio costante, attento, mirato su queste situazioni che sono a rischio di illegalità, sulla base dell'attività di intelligenza e di informazione che noi svolgiamo ogni giorno con le nostre pattuglie sul territorio ma anche grazie alle segnalazioni da parte di cittadini dei casi di mala Movida. Per questo faccio nuovamente appello a ricorrere sempre più spesso al numero di pubblica utilità 117 che è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il BIM assieme alla Fondazione Tercas collabora con il Comune di Castelli per residenza d'artista arrivata alla sua seconda edizione. Ce ne parla nel servizio Chiara Bonatti. Grazie alla sinergia di enti come il BIM e la Fondazione Tercas insieme all'attenta supervisione del Comune rivive per il secondo anno consecutivo Castelli Residenza d'Artista. Dal 31 luglio al 6 agosto all'interno del Borgo della Ceramica. È un progetto che è partito l'anno scorso e che vogliamo proseguare nei prossimi anni perché si tratta proprio di un processo di rigenerazione sociale e culturale del Borgo e quindi nasce nella comunità di Castelli. Quest'anno partiamo il 31 luglio con delle residenze artistiche, quindi avremo Davide Rasetti, giovanissimo terramano, musicista, compositore e polistrumentista che porterà un lavoro per la creazione di un soundscape che poi potrà essere utilizzato anche per l'avvenire, per vivere Castelli, per vivere questo Borgo. Con Arti e Spettacolo che invece è una realtà consolidata aquilana che già l'anno scorso ha dato prova di aver giustamente interpretato quello che è il sapore di questo progetto, cioè ovvero quello proprio di interpretare la memoria di Castelli affinché non vada persa e affinché possa avere un sapore più attuale, più vicino alle nuove generazioni. E poi c'è la proiezione del cortometraggio Ratafia che è stato registrato durante la residenza artistica dell'anno scorso ed è stato poi elaborato durante tutto l'anno e anche lì è una nuova interpretazione di questa storia che è ormai un binomio imprescindibile di questo Borgo, quindi la storia della ceramica e tutte le fasi della produzione reinterpretate attraverso corpi, suoni e parole. Questo progetto poi naturalmente continuerà a settembre, quindi ci saranno i laboratori urbani di comunità che vengono aperti, inaugurati, aprirà i lavori Lucio Argano, uno dei più grandi esponenti della progettazione culturale delle città italiane e poi proseguirà contestualmente, ci sarà una raccolta fondi proprio perché ci apriamo già il 2023. Quindi mi pare di capire che va un po' in quella direzione che anche l'amministrazione ha tracciato già da tempo per ripopolare e riconsiderare il Borgo in provincia di Terra. Assolutamente, noi abbiamo fatto un esperimento l'anno scorso, ha funzionato, anche artisti di altre discipline ma anche artisti di altre generazioni, giovanissimi o di altre culture che abbiamo avuto anche diversi stranieri, hanno attecchito su quella che è poi la produzione artistica castellana perché di fatto l'artista viene contaminato da ciò che succede intorno a noi e quindi è su quella linea che vogliamo muoverci, continuare le residenze, continuare ad ospitare artisti affinché gli artisti si sentano onorati di poter produrre all'interno di questo borgo meraviglioso che già è motivo di grande ispirazione per loro e nello stesso tempo costruire una comunità accogliente che partecipi insieme a noi a questo percorso di ricostruzione. E dopo queste giornate dedicate alla ceramica andiamo alla pagina sportiva con la serie CIL Pescara arriva Ghionna. Due giorni di riposo per il Pescara di Alberto Colombo che è terminato il ritiro di Palena dopo le prime due amichevoli entrambe vittoriose della formazione adriatica che ha battuto come era prevedibile anche la Delfino Curi Pescara dopo aver superato di misura nella prima uscita per 2 a 1 la Dana de Mispor con i turchi di serie A che non sono certo gli ultimi arrivati nel loro tour abruzzese hanno fermato anche il Napoli di Spalletti a Castel di Sangro un risultato che dà più valore alla vittoria ottenuta dai biancazzurri. E calcio di luglio si sa e conta poco ed è presto per dare qualunque giudizio su una squadra ancora incompleta ma le sensazioni quest'anno non solo per la tifoseria sembrano buone soprattutto in riferimento alla coppia di attaccanti in gol anche con la Curi Pescara in due delle cinque reti segnate alla formazione che milita in eccellenza. Una coppia di attaccanti che a differenza di quanto visto nelle passate stagioni soprattutto sembra ben integrata e in grado di giocare bene insieme con caratteristiche diverse. Più mobile e volitivo cupone, più tecnico e dai colpi da centravanti l'Escano. Ma nella squadra manca il pre di ruolo capace di fare la differenza. Sfumati definitivamente altri obiettivi la pista giusta sembra quella del 22enne Andrea Ghion di proprietà del Sassuolo ma sotto contratto con il Perugia che dovrebbe liberarlo per sbloccare un'operazione comunque già ben definita. Infine il modulo se rimarrà delle monache come sembra la novità della stagione potrebbe essere proprio il trequartista abruzzese. Talentuoso attaccante sembra destinato al ruolo di fantasista dietro le due prime punte cupone e l'Escano. Un ruolo che Marco delle monache può interpretare bene visti i numeri. L'importante è che giochi anche se dovesse essere ceduto il presidente Sebastiani ha già detto che lo farà a condizione che rimanga a Pescara. Sarà lui l'uomo in più del nuovo Pescara. Prossima amichevole mercoledì 3 agosto a Pianella contro la locale formazione che milita in promozione. Poi il 7 agosto il torneo di Pineto. Un barlume di speranza finalmente per il Terramo. Il Tarra ha infatti accolto la sospensiva dei ripescaggi che resteranno bloccati fino al 2 agosto. Sentiamo Giussi Cinghue. In casa Terramo una prima buona notizia è arrivata ieri. Con ricorso d'urgenza inaudita al teraparte è stata accolta dalla prima sezione Ter-Tar Lazio la richiesta di sospensiva avanzata degli avvocati Cesare Di Cintio e Federica Ferrari. E martedì 2 agosto il Tar in sede collegiale con buone probabilità potrebbe confermare tale richiesta cautelare che sarà poi definitiva per il destino del diavolo di essere riammesso in serie C. Dunque un bel colpo e anche qualche spiraglio di luce messo a segno dei legali del diavolo che hanno costretto il Tar ad accogliere l'istanza cautelare e la domanda di abbreviazione dei termini processuali alla luce delle ragioni d'urgenza prospettate dalla parte ricorrente e lo stesso Tribunale amministrativo regionale ha fissato per la trattazione collegiale della domanda la Camera di Consiglio del 2 agosto alle 12.45 perché ha ritenuto che ci fossero i presupposti del danno grave e irreparabile per il Teramo in considerazione della composizione dell'organico del campionato di serie C ad opera del Consiglio federale. Oggi dunque saranno bloccati i ripescaggi e rimarrà tutto fermo fino al 2 agosto, giorno della verità. In casa Biancorossa si resta in attesa incrociando le dita. E si dovrà quindi attendere il 5 agosto per conoscere i calendari di serie C. Ora è davvero tutto per l'edizione del TG Abruzzo, grazie per averci seguito, arrivederci.